I notturni di Ameria Radio, a cura di Massimiliano Sansa. Una buonasera da Massimiliano Sansa, benvenuti alla puntata di oggi con I notturni di Ameria Radio, nella quale ascolteremo il quartetto per archi numero 13 in La minore opera 29 di 804 Rosa Molla di Franz Schubert. Schubert compose questo quartetto nel 1824 e lo dedicò al violinista Ignaz Schuppanzig, il quale lo eseguì per la prima volta a Vienna, nello stesso anno, nel 1824, eseguito dal suo quartetto. E' questo il tredicesimo dei quindici quartetti generalmente inclusi nel catalogo delle composizioni schubertiane. Scritto in un periodo di particolare sconforto, testimoniato da varie lettere, il quartetto opera 29 a Rosa Molla risente, soprattutto nel primo movimento, di questo stato d'animo. E' proprio qui, infatti, che si apre in un modo che ricorda il tema malinconico di uno dei primi brani di Schubert, Gretchen Amspinwright. E' a secondo movimento, tuttavia, che si deve il nome Rosamunde del quartetto, dato che questo movimento è basato su un tema della musica di scena per Rosamunde, tema molto simile a quello che appare nell'improvviso, in si bemolle maggiore, opera 142 di 935, nella forma di tema e variazione, scritto tre anni dopo. Il minuetto è ispirato alla melodia di un'altra canzone di Schubert, di Gretchen Lanz. Il quartetto è diviso nei classici quattro movimenti, primo movimento allegro ma non troppo, secondo andante, terzo minuetto allegro trio, quarto allegro moderato. L'esecuzione di questa sera è affidata al quartetto Melos. Massimile Rosamunde vi augura un buon ascolto e una buonanotte con i notturni di Ameria Radio. L'esecuzione di un buon ascolto e un buon ascolto e un buon ascolto. L'esecuzione di 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 un buon ascolto. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.